Due gol d'autore, Passafaro per il Borgia Martinez per l'Atletico Maeda, fissano il punteggio dell'1-1 nel derby che vedeva interessate le due squadre per la lotta per le prime posizioni della classifica, il quarto e il quinto posto. Lasciando così inalterato l'Atletico Maeda al quarto posto con punti 35 e il Borgia a 33 punti a seguire di due lunghezze e mantenendo la possibilità di potersi giocare il playoff contro lo scandale che non è andato oltre l'1-1 a Chiara Valla. Una partita che era sentita chiaramente essendo un derby, il Borgia voleva riscattare la sconfitta dell'andata ma l'Atletico Maeda è stato bravo a contenere le sfuriate dei padroni di casa. Alla fine tutti contenti con una bella giornata di sport in cui probabilmente l'amicizia ancora ha avuto la meglio per le due compagini lasciando come dicevo in partenza inalterate le posizioni in classifica. Adesso tutto si dovrà giocare in questo scorcio di fine campionato per vedere se le due squadre riusciranno a lottare ancora per la promozione.